Sull'incendio divampato ieri sera alla magma di Chieti Scalo, la Procura della Repubblica del Capoluogo Tiatino ha aperto un'inchiesta per incendio colposo a carico di ignoti. Il sostituto procuratore Mari Caponziani punta ad accertare l'origine del rogo che ha devastato l'azienda che tratta rifiuti industriali recuperando materiale plastico e cellulosa, attraverso un'attività di indagine affidata alla squadra mobile di Chieti. Al momento non è stata ancora formulata alcuna ipotesi sulle cause dell'incendio, né si parla di matrice dolosa. Le fiamme alla magma sono divampate ieri sera un'ora prima della chiusura dell'attività, quando nei capannoni c'erano ancora due addetti che hanno cercato in un primo momento di spegnere con gli estintori il principio dell'incendio e hanno poi allertato i vigili del fuoco, che giunti sul posto hanno lavorato ininterrottamente con diverse squadre e mezzi del comando di Chieti fino allo spegnimento definitivo delle fiamme. È stato proprio l'intervento tempestivo dei soccorritori a scongiurare che il fuoco si propagasse anche alle aziende vicine. Quello di ieri è il secondo rogo divampato nello stabilimento di Chietiscalo. Il 21 giugno del 2009 l'azienda venne distrutta quasi per metà con macchinari, camion e un capannone finiti in cenere, da cui si spregionò una nube di idrocarburi aromatici derivanti dalla combustione delle plastiche, così come rilevato dalle conseguenti analisi dell'Arta, che all'epoca nell'aria non trovò composti organici contenenti cloro pericolosi per la salute in caso di combustione. Intanto oggi dati rassicuranti sono emersi nel tardo pomeriggio dall'ultimo vertice in prefettura a Chieti, come annunciato al Tg8 dal sindaco Diego Ferrara, che ieri, in via precauzionale, aveva disposto un'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine grado sul territorio comunale teatino. Questa è la seconda riunione fatta con le istituzioni attrici del problema che stiamo vivendo da ieri. Una ne abbiamo fatto questa mattina e un'altra per aggiornarci alle 17 e poco più. I vigili del fuoco, attraverso il loro comandante dottor Panaro, hanno detto che l'incendio è stato completamente domato, spento. I fumi non ci sono più, ma stanno ovviamente facendo una movimentazione locale della terra per completare il lavoro della bonifica. Però è ovvio che questa opera di bonifica rimane confinata all'area dell'azienda. Per cui l'Arta ci ha detto che non c'è diossina dalla combustione dei materiali incendiati. Pertanto posso tranquillamente mandare il messaggio ai miei concittadini che domani le scuole riapriranno normalmente, così come le attività produttive, il commercio e le attività ludiche, palestre e quant'altro, impianti sportivi. Rinnovo l'invito ai cittadini a non avvicinarsi al luogo dove è accaduto l'incendio, sia per permettere ai vigili del fuoco di lavorare in serenità, sia perché comunque non è salutare al 100% respirare ancora quella credine, quel fumo che può dare problemi alla gola o agli allergici. Quindi cercate di stare lontani dall'area e permettete ai vigili del fuoco di fare il loro lavoro. Ringraziando Dio il pericolo grosso è stato scampato. Speriamo che sul nostro territorio non accada più nulla di così eclatante. Scuole riaperte da domani anche a San Giovanni Tiatino, dove anche il sindaco Giorgio Di Clemente aveva optato per la chiusura precauzionale in considerazione della fitta nube di fumo che aveva investito il territorio comunale limitrofo al capoluogo Tiatino con il propagarsi dell'incendio. Ci siamo dati appuntamento alle 8.45 di domani mattina per avere i risultati spero definitivi o comunque se non definitivi quasi completi dell'arta e quindi per questo motivo farò un ulteriore comunicato sulla pagina Facebook del Comune. Comunque l'importante è poter domani ritornare a una vita normale.